Esiste una preghiera che è stata dimostrata essere sorprendentemente potente per attrarre denaro e prosperità nella tua vita. Questa preghiera è apparsa in origine nella rivista americana Scienza della Mente. Attraverso questa preghiera chiunque voglia migliorare la propria situazione economica è sfidato a ripeterla più volte al giorno per 28 giorni. Chi la fa in maniera corretta e in questo modo otterrà grandi e sorprendenti benefici. Una coppia che ha ripetuto questa preghiera nella rivista precedentemente menzionata fece esattamente ciò che doveva essere fatto. Ripeterla varie volte al giorno tutti i giorni e dopo varie settimane questa coppia vinse la lotteria della California. Devi comprendere per il tuo bene superiore che la vera ricchezza appare nella tua vita quando riconosci la vera fonte di tutto il bene includendo il denaro dentro di te. Solo allora le ricchezze di qualunque tipo iniziano a manifestarsi nella tua vita e nella maggior parte delle volte lo fanno in maniera inimmaginabile per te. Quindi ti sfido a ripetere queste meravigliose parole tutti i giorni per 28 giorni minimi. Questo audio è stato creato per ascoltarlo tre volte la mattina, tre volte il pomeriggio e tre volte la sera poco prima di dormire. Ripeti le parole lentamente lasciando che sprofondino nel tuo inconscio più profondo e centra tutta la tua attenzione nelle parole. Ti richiederà solamente pochi minuti ma i risultati nel fare questo tutti i giorni durante 28 giorni minimo impatteranno tutta la tua vita in maniera miracolosa. Prima di passare alla preghiera permettimi di dichiararti lo seguente. Quando esprimi questa preghiera ti stai dirigendo in ogni momento al Dio interiore, ok? Al potere infinito che esiste dentro di te. Lascia i tuoi risultati che ottieni nei prossimi giorni, magari settimane di qualunque tipo, qui sotto nei commenti. Iniziamo. Io So Che Dio è la fonte di tutto E che il denaro è Dio in azione So Che il mio bene E qui E adesso Sono ricchezza E mi sento così pieno Che ho grande abbondanza di denaro Per spendere E condividere Oggi E sempre So Che la vera prosperità Include la salute perfetta E la felicità perfetta E la felicità perfetta E la felicità perfetta Nella mia vita Nella mia vita E la felicità perfetta E la felicità perfetta E la felicità perfetta E la felicità perfetta Per il mio bene so che il mio bene è qui e adesso sono ricchezza e mi sento così pieno che ho grande abbondanza di denaro per spendere e condividere oggi e sempre so che la vera prosperità include la salute perfetta l'armonia perfetta la ricchezza perfetta e la felicità perfetta queste parole che pronuncio con grande fede adesso attivano le leggi universali e accetto con amore i magnifici risultati che avvengono nella mia vita benedico tutto ciò che ho oggi e benedico l'aumento della ricchezza salute e gioia infinita nella mia vita so perfettamente che adesso prospero in tutti gli aspetti della mia esistenza e ringrazio infinitamente per i miracoli che avvengono ora in me che così sia grazie lascia un mi piace condividi con chi pensi ne abbia veramente bisogno e scopri la risorsa che ti accompagnerà con questa preghiera in questi 28 giorni qui sotto in descrizione per massimizzare così i tuoi risultati